ciao bambini buongiorno a tutti sono patrizia e oggi ci divertiremo a piantare dei semini si prova bambini ve lo ricordate quando facevamo all'asilo allora guardate cosa preparate le lenticchie lenticchie i ceci e i fagioli qui ho un po di terra però se a casa non ce l'avete si può fare anche con il cotone guardate allora bambini ho preparato queste vaschettine che potete trovare dalla mamma e dal babbo sono dei contenitori della frutta della pop si possono trovare ovunque ce l'avete in casa con le cose della spesa allora prendo del cotone ve lo faccio vedere col cotone e poi anche con la terra va bene si posiziona il cotone nella vaschettina ma accomodiamolo per bene guarda e si sistema tutto il cotone qua ecco tutto si è sistemato ma chiama il cotone questa avanza si toglie e in questa vaschettina invece mettiamo la terra se non ce l'avete mettete anche in questa che profumo questa terra lo siano un po mentita una profumata prende le lenticchie e si mettono nella terra vediamo un po le lenticchine come sono piccoline questi e poi bambini si ricoprono con altra terra dai copriamo bene poi prendiamo i ceci e mettiamoli su questo bel cotone eccoli qua tutti i ceci sul cotone e poi li ricopriamo ancora un pochino di vitone che sono tutti coperti ecco e ora i fagioli e ora i fagioli poi mettiamo anche i fagioli poi mettiamo anche i fagioli lana non è nusso i fagioli ma a te non ti piacciono questi tipi eh ecco tutti i fagiolini sul cotone ricopriamoli con il cotone ecco tutti ricoperti ecco ecco bambini le nostre vaschettine sono pronte qui abbiamo i fagioli le lenticchie che si possono mettere anche nel cotone se non avete la terra e i ceci e ora l'ultimo passaggio dobbiamo innaffiare le piantine allora chi ce l'ha con uno spruzzino le spruzziamo proprio bene 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 eh bimbi bene bene tutti i semini li dobbiamo bagnare bene benissimo e per chi non ha lo spruzzino lo può fare con un bicchiere un cucchiaino un cucchiaio e innaffia le piantine ecco in ultimo si possono preparare delle bandierine e colorarle come ci fa più piacere io non ho le matite ora poi le colorate col babbo e la mamma e ci possiamo mettere un bello stecchino lungo e mettete le vostre bandierine tutte decorate sulle piantine ecco pronte le nostre paschettine bambini guardate la meraviglia allora provate anche voi a casa ecco il babbo e la mamma e poi vediamo se nascono le lenticchie i fagioli e i ceci ciao bambini un abbraccio grande da me e dall'ana l'ana saluta saluta anche te i bambini guarda la saluta ciao bambini un bacio ciao bambini come state sono patrizia un saluto grande a voi ai vostri babbi e alle vostre mamme oggi vi volevo far vedere come sono diventati i semini che avevamo piantato ve li ricordate? sono state piantate un po' di tempo fa eh? l'8 aprile guardate ora oggi è il 22 aprile guardate come sono diventati questi sono i fagioli le lenticchie e i ceci le avete piantate anche voi bambini e sono cresciuti nelle vostre paschettine se non l'avete ancora fatto riguardate il video e ricordatevi di bagnarli sempre e di spruzzarli se no non ce la fanno a crescere vi saluto bambini ciao a presto un bacio da me e dall'ana ciao a presto alla prossima e a presto all'anno azione la direzione Grazie a tutti